Una cosa molto importante da ricordarti una volta che avrai installato questo favoloso apparato di provare e di verificare che il tuo impianto CD funzioni bene. Per verificarlo cosa farai? Innanzitutto lo accenderai, posizionerai selettori e manopole così come le vedi in questo momento, a quel punto qui premerai la portante e quindi andrai in trasmissione. Come detto prima si deve accendere un'unica spia, se ne accendono due spegnilo e verifica l'impianto antenna. Per vedere se la tua antenna va bene cosa fai? Ti posizioni sul canale 1, premi la portante e avvicini il microfono alla bocca e fai Oh! 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 Ecco come vedi si è accesa solo la spia del TX e non dell'Aui, il che vuol dire che andiamo bene. Poi mi sposto sul canale 20, stessa operazione, premo la portante, faccio Oh! 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 Come vedi la lancetta balza in avanti, si accende solo una spia, vuol dire che andiamo bene. Vado sul canale 40, se fosse un 68 in 34, premo sempre la mia portante, Oh! 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 Come vedi sempre un'unica spia e mai la seconda. A quel punto qui ho verificato che il mio impianto antenna è perfettamente funzionante. Io sono un BertoCB by TrackPoint e mi trovo in provincia di Cremona. Mi occupo da 32 anni di installazione, vendita, assistenza di riccia trasmittenti CV su camion, auto, fuoristrada, mezzi agricoli e campere e moto. Se anche tu hai la necessità di effettuare l'installazione del tuo impianto CV, di acquistare materiale per installare il tuo CV, TrackPoint, che si trova in provincia di Cremona, dispone di un ampio piazzale dove puoi tranquillamente arrivare col tuo mezzo o spedisci anche in tutta Italia. Quindi è sufficiente che mi contatti ai numeri qui in sovrimpressione, allo 0 375 98 340 o sul numero di cellulare il 335 446 595. Sarà un piacere darti ulteriori informazioni. Da UmbertoCB by TrackPoint, ci vediamo al prossimo video. Ti ricordo, se ti è piaciuto questo video, di condividerlo con i tuoi amici, iscriverti al canale YouTube TrackPoint per restare sempre aggiornato e mettere il tuo mi piace.